24 ore di sciopero domani 7 agosto da parte dei lavoratori del trasporto pubblico locale abruzzese per dire no alla politica della giunta d'Alfonso sul TPL. CGL e UGL hanno organizzato due eventi, un sit-in alle 10 sotto la regione Abruzzo in Viale Bovio a Pescara e un incontro dibattito con i politici regionali a Teramo alle 17 all'hotel Abruzzi. I sindacati degli auto ferro tranvieri contestano soprattutto i tagli al settore, meno 10 milioni di euro per il 2015, che significano anche tagli alle corsi e ai servizi. Poi ci sono le questioni aperte relative alle assunzioni e all'estensione a tutto l'Abruzzo del biglietto unico già attivo nell'area metropolitana di Chieti Pescara. Il nuovo trasporto pubblico locale deve puntare al fatto intanto di mantenere fondamentalmente un'azienda pubblica che gestisca il trasporto della nostra regione. E poi deve evitare di fare quello che è stato fatto nel passato, cioè intervenire sistematicamente sui tagli ai servizi, cosa che ha fatto anche l'azienda unica, nel cui piano industriale sono previsti appunto tagli ai servizi, affidamenti ai privati attraverso le subconcessioni e noi queste operazioni le stiamo contestando. Altro motivo di scontro tra sindacati e politica è la sangritana e le 35 assunzioni con contratti di somministrazione che secondo i sindacalisti potrebbero costare caro alla collettività. Eh beh sì, quello come diciamo noi a photo finish, mentre noi stavamo in regione, stavamo discutendo il nuovo contratto di Tua sui nastri, sui riposi e quant'altro, la stanza a fianco del presidente Di Nardo deliberava in GDA le nuove assunzioni e transazioni a 110 mila euro.